Cosa possiamo darle? Le indicazioni per la Boulburn Valley Farm. È di mia proprietà. Viene dagli Stati Uniti, vero? Scommetto che c'è una storia intrigante dietro il suo arrivo. Ok, dopo aver perduto sia il fidanzato che il lavoro, ho partecipato al concorso. Hai vinto la locanda! In Nuova Zelanda! 13 ore di volo fino ad Oakland e ben 3 ore in Pullman. Mi dispiace molto. Le ripagherò tutti i danni. Beh, ha fatto una bella ammaccatura al mio youth. Sono ufficialmente la proprietaria di una locanda. Mai credere che quello che vedi in internet corrisponda alla realtà. Sembra che abbia visto un fantasma. Una capra. Gilbert. È un bel tipo. Conosce nessuno in città che faccia ristrutturazioni? Jake Taylor. Posso avere il suo numero? Jake, qual è il tuo numero? Chi lo vuole? Lei! Non è vero. Perché vuole il mio numero? Speravo di poterti fare una proposta. Ma è una vera bellezza. Potremmo riportarlo al suo originale splendore. Ottimo. Visto, è rotto. Cosa c'è tra te e le vecchie case? Mi è sempre piaciuto costruire. Mi fa sentire un po' meno... Un po' meno a pezzi. Credo che lo scapolo più ambito di Beachwood Downs possa avere un debole per te. È bella. Davvero bella. Cavolo, cavolo. Ehi, Chad. Di assintovina? Posso offrirti un posto da vicepresidente? Dovrò purtornare alla mia vita vera. Oh, la tua vita vera, ok. A me sembra che tu non le abbia detto quello che provi davvero. Immagino che l'universo abbia un piano ben preciso, no? Mi piace immaginare un lieto fine. Pensavo fossimo amici. Uh, 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 uh.